Ammontano a 150.000 euro i beni sequestrati, questa mattina a Palermo dalla polizia riconducibili al 47enne Giuseppe Di Fatta, indicato come vicino alla famiglia mafiosa di Roccella. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale del Capologo, che ha accolto la proposta avanzata dal questore. Sigilli ad un'impresa operante nel settore del commercio al dettaglio di intimo e corredi, avviata dalla moglie, un'auto e un motociclo. Di Fatta, per il quale è stato richiesto anche l'obbligo di soggiorno, era già stato arrestato in precedenza nel 1989 per favoreggiamento personale nei confronti di tre pregiudicati resisi responsabili di una rapina ai danni di un gioiellere a Ciminna e condannato nel 1997 per il reato di ricettazione e abusiva riproduzione di opere cinematografiche. Più recentemente, lo scorso 19 luglio, l'indagato, oggi ancora detenuto, è stato tratto in arresto insieme a numerose altre persone nell'ambito di un'operazione di polizia condotta dalla squadra mobile di Palermo per associazione mafiosa ed estorsione. In particolare, il provvedimento ha riguardato di Fatta in quanto ritenuto appartenente alla famiglia mafiosa di Roccella, dedita alla realizzazione di attività illecite nel settore delle estorsioni alle imprese ed esercizi commerciali della zona, volte a favorire la famiglia mafiosa di Brancaccio e realizzate con le tipiche modalità mafiose. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, Francesco Paolo Valdese e Salvatore Sollima, hanno confermato negli anni la caratura criminale ed il ruolo di primo piano del 47enne all'interno della stessa famiglia mafiosa di Brancaccio.